e la SEC perde un'altra causa contro il mondo cripto. Secondo quanto riportato su Fortune infatti la SEC abbandona l'indagine chiave sulle stablecoin, una vittoria per l'industria delle criptovalute. Pare proprio che la SEC abbia perso la sua causa contro la Paxos, una delle più grandi e famose aziende di gestione di stablecoin. Giusto per fare qualche nome la Paxos è emittente del Pax dollar, la propria stablecoin, del Pax gold, parliamo di un asset che va a tokenizzare oro fisico e poi i noti PUSD, la stablecoin di Paypal e poi il BUSD, l'ormai scomparso dollaro di Binance. E fu proprio la SEC a obbligare Paxos a chiudere il BUSD. La SEC infatti aveva accusato il BUSD e il Paxos USD, il Pax dollar, di essere delle security e quindi aveva creato un po' di problemi nell'industria. C'è un altro problema però e questo dovrebbe farci pensare di quanto questi organi di regolamentazione in realtà siano potenti anche in un settore come quello delle criptovalute. Infatti era bastato solo l'avvio delle indagini da parte della SEC per far smantellare il BUSD e di conseguenza portare degli effetti non proprio piacevoli sulla piattaforma che lo utilizzava e quindi Binance. Quindi di fatto anche se Paxos aveva ragione, anche se il BUSD non era da considerarsi una securities, col senno di poi in realtà nonostante la SEC abbia perso ma è comunque riuscita nel suo scopo e il BUSD fa ormai parte della storia del mondo cripto. Questo dovrebbe farci riflettere proprio sul peso che hanno queste agenzie non solo sul mondo tradizionale in ottica di regolamentazione ma anche e soprattutto sul mondo cripto e negli ultimi anni lo vediamo di continuo, Gary di continuo, questa è una securities, questa è una securities, questa è una securities. Da quanto va avanti questa dinamica? Nonostante ciò però vediamo che sia che vincano sia che perdano comunque dei risultati, degli effetti arrivano sul mondo cripto. Quindi è molto importante riflettere su questo concetto. È vero la SEC non vince sempre, anzi hanno collezionato una serie di sconfitte clamorose. Ma cos'è successo in particolare in questo contesto, in questo momento? È molto semplice, sostanzialmente l'agenzia di Gary Gensler, quindi la SEC, ha semplicemente fatto cadere le accuse nei confronti della Paxos. È proprio il caso di dirlo oltre al danno anche la beffa. Sì perché il motivo per cui erano iniziate le indagini era proprio il BUSD. BUSD che ormai è passato a miglior vita, non tornerà più e la causa sono state proprio queste indagini. Dopo che il BUSD è scomparso, dopo un po' di tempo, il vecchio buongheri ritira le accuse. E quindi si fanno da parte e dicono no no no, tutto a posto, tutto a posto. Ma tutto a posto niente. Avete comunque fatto un danno sul mercato. Si potrebbero a questo punto aprire milioni di porte, parlare di quanto sia pesante il potere della SEC. Soprattutto ancora prima di arrivare in tribunale. Quindi già solo la partenza delle indagini smuove i mercati, porta conseguenze ed è inaccettabile perché la SEC dovrebbe tutelare gli investitori e invece tante volte con le sue politiche non fa altro che portare perdite, sofferenze inutili agli investitori. Fammi sapere la tua personale opinione qua sotto nei commenti. Clicca l'icona che trovi qui e iscriviti al canale è gratis. Avrai tantissime informazioni e aggiornamenti dai mercati proprio come quello che hai visto oggi. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.